Centinaia di famiglie di Latina pronte ad andare in tribunale contro i gestori della discarica di Borgomontello, ma in attesa di sapere se saranno rinviati a giudizio attorno all'impianto continuano a concentrarsi vecchi e nuovi misteri. Alfredo Di Giovan Paolo. Falde acquifere inquinate dai rifiuti della discarica è solo un'ipotesi, ma a formularla è la Procura di Latina che ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone, due dirigenti della società Ecoambiente, che gestisce una parte dell'impianto di Borgomontello, e un altro imprenditore. Le accuse sono di inquinamento ambientale e mancati controlli, e il GIP deciderà il 30 maggio. Ma intanto attorno a questa discarica continuano a girare strane storie, come quella che riguarda la proprietà dei terreni che circondano l'impianto. Sono della famiglia Schiavone e di Michele Coppola, processato e assolto per mafia, ma coinvolto in altre inchieste giudiziarie. A loro dovrebbe rivolgersi la regione in caso di ampliamento della discarica. Sono presenze criminali inquietanti, presenze datate dagli anni Ottanta, oltre al noto verbale di Schiavone, qui ci sono presenze consolidate anche di indrine calabresi, famiglie, sottofamiglie criminali. Poi c'è la vicenda dei rifiuti tossici, che sarebbero stati sotterrati a Borgomontello tra gli anni Ottanta e Novanta. Ne parlò il pentito di Camorra Carmine Schiavone, poi l'Enea confermò la presenza di metalli nel sottosuolo. Ora la ricerca dei fusti tossici sarà affidata alla società Poseidon, che attualmente lavora per la Ecoambiente. Ha vinto una gara d'appalto, ma è chiaro che il ritrovamento dei fusti e la conseguente chiusura della discarica non gioverebbe ai suoi affari. Per questo Libera e Lega Ambiente chiedono chiarezza e di costituire una commissione formata anche da loro esperti, che segue i lavori di scavo. Perché tutta la procedura sia estremamente trasparente, i cittadini vengono immediatamente informati e qualunque dubbio, per ora ancora assolutamente legittimo, di collegamenti ambigui tra società che dovrebbe fare i controlli e il controllato, vengono immediatamente fugati. C'è la volontà di dare la massima trasparenza e iniziare a fare ordine su tutto ciò che è di non trasparente e che in maniera confusa si è sviluppato in questo territorio negli anni passati sino ad oggi. Libera e Lega Ambiente chiederanno che alla ricerca dei fusti tossici assista anche un perito della Procura di Latina.